L'industria musicale è nel pieno di una rivoluzione digitale, una rivoluzione che in parte si è già compiuta, in parte è ancora in fase di compimento. Uno dei nuovi protagonisti del settore chiaramente sono le piattaforme di distribuzione digitale. Il mercato è radicalmente mutato negli anni, pensate solo che negli ultimi sei mesi lo streaming, quindi la forma di diffusione di musica oggi più comune, più praticata anche dai giovani a livello globale, rappresenta in Italia circa il 65% del mercato. Chiaramente i player sono aziende addirittura che solo pochi anni fa non esistevano, hanno rimpiazzato sostanzialmente i player tradizionali, piattaforme tecnologiche che collaborano con le case discografiche per rendere disponibili i contenuti a livello globale.